e soprattutto rimaniamo esterefatti anche dalle parole di coloro i quali dei due italiani che sono riusciti a tornare e ad essere liberati. Nel senso che qua abbiamo di fronte non delle tribù di per se stesse, non delle compagini schierate, ma c'è una situazione di anarchia talmente tale che ogni singolo gruppo o gruppetto o banda armata si permette di fare di tutto e di trattare civili come delle bestie. Questi sono delle bestie sostanzialmente dall'una e dall'altra parte. Il dato di fatto è che nessuno è in grado oggi di capire cosa si può fare e questo vuoto va avanti oramai da due anni ed è un vuoto che non è stato colmato. Si parla di una situazione caotica, di insicurezza, si dice ovviamente che nessuno è in grado di capire cosa si può fare lì e dall'altra parte noi chiediamo un po' di chiarezza anche al governo italiano rispetto soprattutto ai rapporti con gli Stati Uniti. A noi pensiamo che abbiamo richiesto Gentiloni in aula, verrà mercoledì a spiegare questa situazione, ma il fatto che gli Stati Uniti indichino la strada all'Italia come possibili capostipiti di una missione a terra, insomma ci sembra quanto allucinante se poi dopo una settimana il Presidente del Consiglio smentisce questa situazione.